Io faccio un lavoro che amo, che amo moltissimo, lo faccio da quando sono bambina, quindi è parte della mia vita. Però devo essere sincera, vivo delle difficoltà ogni tanto, perché quello che traspare spesso dalla televisione non è la realtà. È sempre una cosa molto edulcorata, si evita di parlare di alcune cose. Per cui ogni tanto c'è bisogno per me di questo tipo di cose, perché mi dà la sensazione che tutto sommato serva a qualcosa, ci metto delle grosse virgolette, il mio lavoro. Perché il più delle volte la sensazione è che non è molto, anzi appunto, a dare una visione un po' distorta di quella che è la realtà. Per cui ce ne fossero di progetti come questi da sposare, potendo stare tutto il giorno a prestare la faccia se serve.